buongiorno sono fabio fullone agente mobiliare habitat group oggi siamo a torino in strada lancio 166 nell'elegante complesso i cinque monti e sono qui per presentarvi un alloggio secondo piano con ascensore con quattro locali e un box auto il nostro corso gratuito www.mesmerism.info perché compare questo alloggio abbiamo spazi ampi parco condominiale che dà privacy e verde box auto e ascensore non ti resta che venirlo a vedere chiamami grazie a tutti